benvenuto in questo nuovo video siamo al supermercato alle spalle mia madre eccola qui che stai guardando ma niente la lista stiamo nel settore quello lì qua mi scende intanto anche la mascherina va bene mi viene un pochino larga e mi raccomando iscriviti se ancora non l'hai fatto attivando la campanellina tutte buongiorno a tutti o buonasera che possono guardarlo anche di sera io do un saluto salve allora a tutti ti piace allora siamo andati da si sa come visto nell'intro e mia madre ha speso 61 euro e 27 centesimi cavolo e non hai fatto una bella spesa nel senso non ha preso tantissima roba evidentemente quelle cose che ho preso erano cara esatto non ho controllato bene il prezzo oggi ho lasciato andare mi sa di sì ho lasciato andare la mia fantasia cornetti due pacchi e io sono diventata anche un pochettino monotona naturalmente per me questo tipo di merendine sono il massimo della vita ecco 2 e 49 cartigenica scotonelle 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 no per dire scottex hanno che forse hanno hanno imitato esatto imitazione sì 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 è vero hai ragione ma è questo scotonelle non riesco a vederlo ne 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 so che c'è trapuntata qua il primo perché sto non lo vedevo un secondo non il primo 59 centesimi cosa stai dicendo addirittura si scotonelle qui c'è scritto 3 euro 3 euro che centri il secondo 3 euro quanto hai detto ma hai preso 3 euro tipo cartigenica non è cara sono 12 12 i rotoli adesso dobbiamo controllare quanto quanto compro e parlo 12 rotoli ho sbagliato avevo visto la lemon soda anziché te la prendo subito avevo visto la lemon soda al posto di quello che invece costa 59 centesimi di quanto ne hai prezzo? direi 3 poi i tovaglioli no questi 99 centesimi e li ho presi 2 maionese calvè un bel barilone come sempre mia madre fa scorta no perché mi era finita ma come la usi la maionese mamma che lo compri spesso allora io la compro spesso perché amo tantissimo la maionese sopra i crackers non salati galbusera dico anche la marca 1 euro e 99 centesimi milk e gli yogurt si difese naturale 1 euro e 99 ma non lo so ce lo fanno di condividere ancora non lo fanno non lo fanno ma è togliato noi cerchiamo di dare il mail di condividere su tutti i social e noi cerchiamo di dare il mail in questo caso? che cosa ho detto ma ancora lo so vabbè paggrattato 1 euro e 49 centesimi san carlo montana 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 cammilla 1 euro e 49 centesimi 2 latte 6.099 centesimi ma che belli che sono sti capelli bianchi che non gli è tanto spuntano come si deve fare mamma io devo un po' di più di te quindi come si deve fare tu parli di te ma è meglio che non parliamo di me annaggia la miseria santa rosa marmellata alla albicocca mamma yoga si eh si confruttura santa rosa 2 euro e 19 centesimi no dico mi è venuto in mente sicuramente tanto che noi non facciamo videoricetto assieme se hanno se hai qualche richiesta da farci in particolare che la mia mamma ti prepara insomma facciamo la videoricetta insieme a quando? a quando no perché è da tanto che non lo facciamo è da tantissimo è un periodo estivo ecco perché si ha meno voglia di stare in cucina posso dire sì no lo so è bello d'inverno se hai qualche richiesta nello specifico magari scrivimelo nel tuo commento che o lo farò con la mia mamma oppure lo farò io certo certo a loro richiesta sì non lo so perché mi è venuto in mente con la marmellata ah perché ho pensato alla grossata mi ammiglio subito mi viene in mente che la grossata dalbicocca e trovi la ricetta sul canale con la marmellata solo quella mi viene in mente tadan yoga 1 euro e 49 centesimi il dado star un momento di abbiocco scusa star no star è proprio bello 1 euro e 15 poi questo che già ti abbiamo fatto vedere in uno scorso video e mia madre te ne parla a lei è buonissimo particolare delicato con le fragole il mix è perfetto ottimo l'ho preso pure io dato che mia madre l'ha consigliato 99 centesimi ho preso 4 cipolle 1 euro e 15 olio di semi di girasole 1 euro e 49 domopack i sacchetti per la spassatura 1 euro e 99 polpa bella star sì 1 euro e 89 quello lì è ben visibile l'avevo già visto anche prima lo zucchero però 99 centesimi e questo è scritto direttamente sui sì questo 99 centesimi è la frutta quella alla secca che vendono solitamente poi biscotti riso su riso galbusera amati e riamati da mio padre che quello è come me cioè una volta che ha trovato una cosa mangio solo quella io sono gocciola dipendente mio padre galbusera galbusera dipendente 2 euro e 19 4 pacchi sicco il riso senza lattosio 2 euro e 79 centesimi questi sono nuovi ah questi già l'ho fatti vedere a tempo fa tu hai fatto vedere come si chiamano questi misura frivolat senza latte uova biscotti con cacao e riso soffiato ti ricordo che mia madre compra spesso i biscotti senza lattosio senza latte perché mia sorella è intollerante quindi per questo motivo 2 euro e 59 centesimi due pacchi mentre da acqua e sapone mia madre come sempre 43 e 13 43 euro e 13 centesimi allora shampoo alla lavanda dell'antica erboristeria che te l'abbiamo già parlato abbiamo già fatto vedere e mostrato quanto 1 euro e 10 spazzola questa qua a me non piace io ce l'avevo e tira i capelli io solo con la tango però è morbida sì rispetto a quella che voleva mia madre voleva prendere quella tonda che tira i capelli da morire 6 e 70 cavolo che legno queste testine glielo consigliate io a mia madre ci sono diverse testine per lo spazzolino elettrico queste qui con il centro giallo servono per sbiancare i denti 3D white ma non solo perché ho notato che puliscono più a fondo i denti quindi te le consiglio vivamente costano all'incirca 9 euro e 30 perfetto quindi però ne valgono realmente la pena e ce n'è 2 all'interno fra dito romeo gigli sì è una fantasia leopardato sì e niente 6 euro e 50 poi menta dente what now sì e poi white now man io volessi capire la differenza perché se io sono donna questo non lo posso utilizzare no che significa perché l'uomo è un tipo di dentatura sbalto e la donna è un altro 2 euro e 90 bello e l'altro altrettanto poi questo shampoo della Omnia Laboratories di cui ho preso anche i solari abbiamo preso i solari a proposito di solari se ti interessa una recensione completa solari con i boninci ti consiglio di venirmi a trovare su Erex in the Wonderland il mio secondo canale e mi raccomando iscriviti perché lì do tantissimi consigli mia madre intanto sta cercando il prezzo perfetto però detto questo quest'ultimo è uno shampoo con olio di semi di lino i semi di lino fanno benissimo al capello questo non contiene ovviamente schifezza all'interno come sempre ormai è sottinteso che te lo dico però questo è uno shampoo ristrutturante e anti rottura per capelli sciupati e fragili e cuoio capelluto delicato questo qui è ottimo 2,59 euro poi con l'ottorio anti placca e anti placca protezione io se li bevono secondo me se li bevono ho questa impressione e poi il whitening si siamo in tre però ognuno di voi tre che fa un uso diverso certo ognuno ha il suo allora tu quale usi facciamo questo questo il whitening elisa quale usa è differente sono io quella che vado a puntare è differente allora se li scambio esatto io ho quello sempre mio 99 centesimi ognuno poi gemar le maschere all'argilla viso detox antipurità e bio aloe vera ne ha prese due 99 centesimi mi pare o 90 addirittura 75 centesimi ma erano in offerta questi si 75 ognuno poi sempre per quanto riguarda i rex in the wonderland ti ho fatto penso lo vedrai oggi proprio lo stesso giorno di pubblicazione un tag dedicato alle pulizie quindi dove ti racconto un pochino le pulizie come le faccio io a me se non te lo vuoi perdere ti consiglio di sempre venirmi a trovare detto questa fatta questa parentese ogni volta pubblicità a go go a go go buon prodotto questo per i pavimenti ecco smart express i pavimenti senza risciacqua pulito profondo in metà tempo ed è una novità già l'hai provato questo? però tempo fa ne ho provato un tipo simile ed era ottimo come marca è sempre della stessa linea ho provato questa è la freschezza di agrumi è quello che cosa è? no niente freschezza intensa stesso prezzo 1,19 poi fammi sapere mamma sì certo anche se profuma certo felce azzurra il famosissimo morbidente 1,49 lo amo questo mi capita sempre per ultimo forse perché è il più pesante più pesante infatti aiuto 2,50 euro manco me lo fa vedere no lo vedono è un ottimo morbidente feeling profumo fior di loto profuma fior di loto sì vuoi provarlo? no dopo l'ultima dopo l'ultima esperienza l'altra volta nello scorso video suota la spesa stavo morendo l'hanno sentito 2,50 euro sì stavo crepando hanno usato un prodotto per i pavimenti era vicidiale che però è ottimo bene questo video termina qui speriamo come sempre di averti tenuto compagnia di averti regalato un sorriso e quindi alla prossima salutiamo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.